Non ho nessun problema a mettere la faccia su questa situazione perché come tu sai benissimo Massimo io ce l'ho sempre messa fin dal primo giorno perché sono perfettamente convinto che questa sia una battaglia di legalità e sono fortemente sorpreso nel pensare che un membro del Parlamento come la senatrice Taverna dica a noi la legalità non interessa, ci interessa la cosiddetta giustizia sociale. Non l'ho detto mai, ho detto mi interessa la legalità ma mi interessa la giustizia sociale. Parole di pochi minuti fa, ho detto mi interessa la legalità ma mi interessa anche la giustizia sociale e lei non si nasconda dietro alla legalità per mancare un privilegio come se fosse la giustizia. Ma voi vi state stracciando le vesti da 10 mila euro per arrivare a 7 mila, questo è vergognoso ma in uno stato di diritto quello che conta è la legalità. In uno stato di diritto quello che conta è la legalità, solo la legalità avete fatto qualunque nefandezza nascondendovi dietro la legalità. Oltretutto leggi che vi siete fatti da soli e che vi autorizzate da soli, il massimo. Ma dovrebbe essere quello di rispettare gli altri e non mi pare che lei stia rispettando chi sta interloquendo. Se avesse la cortesia di stare zitta saprebbe che per me, e lo ripeto buce alta, la legalità è la premessa fondamentale di vita in uno stato di diritto. Sento che sta continuando a parlare, mi pare molto difficile dialogare in termini civili. Io sono abituato a farlo come Max Gilletti sa perfettamente. No, no, diamogli la possibilità di replicare. La prego di stare zitta e di ascoltare. Sì. Detto questo, detto questo, le ripeto ancora, per me la legalità è fondamentale in uno stato di diritto. Non vedo poi perché ve la prendiate con il presidente Caliendo, perché anche il presidente del consiglio di giurisdizione, lo sacco, è nella identica posizione. Terza cosa, in realtà il presidente Caliendo, tenuto conto dell'età, avrebbe tutto l'interesse a mantenere la delibera, perché non avete nemmeno fatto i calcoli giusti. Se li aveste fatti giusti sapreste che lui dalla delibera del Senato potrebbe solo guadagnare e non perdere in termini economici. Altra cosa, il presidente Caliendo si è astenuto, anche dal punto di vista del diritto non sapete nulla, perché se sapeste esattamente come funziona la normativa sapreste anche che il 20 non ci sarà nessuna sentenza, perché non ci può essere, perché quando un presidente o un membro di un consiglio di giurisdizione o della commissione contenziosa si astiene, ci deve essere la decisione del presidente della Corte d'Appello, che deve decidere se accettare o non accettare l'astensione. Non è una dimissione, è una cosa completamente diversa. Quindi cosa vuol dire, scusi, tradotto, no, tradotto cosa vuol dire, paniz, avvocato, scusi, cosa vuol dire? Che quindi slitterà ulteriormente? Tradotto vuol dire che il presidente della Corte d'Appello dovrà decidere se accogliere o non accogliere l'astensione del presidente Caliendo. Se l'accoglierà verrà nominata un altro componente della commissione. Se non l'accoglierà lui potrà continuare a giudicare, perché queste sono le regole di uno Stato di diritto che valgono per la giustizia interna e per la giustizia ordinaria. È stato chiaro, voglio farvi ascoltare rotondi.